Il Comune di Biceglie riceverà 200.000 euro che saranno destinati al settore del trasporto pubblico locale. Lo ha annunciato il consigliere regionale e presidente del gruppo del Partito Democratico, Filippo Caracciolo. I dettagli nella scheda di Luca Ciciriello. La Giunta regionale pugliese ha finanziato con una cifra pari a 200.000 euro il servizio pubblico di trasporto cittadino del Comune di Biceglie. Ad annunciarlo è il consigliere regionale e presidente del gruppo del Partito Democratico, Filippo Caracciolo. Lo scorso 14 gennaio, dichiara, si è tenuto un incontro tra Regione Puglia, Provincia Bat e Comune di Biceglie all'assessorato ai trasporti e mobilità sostenibile. Da questo incontro, spiega il consigliere regionale, è emersa la possibilità di erogare un sostegno di 200.000 euro necessario al Comune di Biceglie per evitare interruzioni del servizio di trasporto pubblico che porterebbero a situazioni di disagio soprattutto alle fasce deboli della popolazione, oltre che a studenti e lavoratori delle istituzioni scolastiche del secondo grado di istruzione nella fase imminente della progressiva riattivazione delle attività didattiche in presenza. Il finanziamento, prosegue e conclude Caracciolo, potrà essere utilizzato anche per servizi aggiuntivi eventualmente necessari per contenere la diffusione del contagio da Covid.